Salve a tutti i Blazers e benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo su Cubecraft pronti per fare una Egg Wars in compagnia di Tech Forcone. Oggi proprio sarà cattivo Tech, andrà con i forconi a impalare i nemici. Poi abbiamo la nostra ragazza del gruppo ovviamente, che sarà Mara Marci. C'è questa sorpresa che... Non accetto e non saluterò nel video. Attenzione, drastico. Non silenzio stampa. E poi ovviamente, vabbè, adesso non pigliamoci per il culo, c'è anche Yako. Ciao, ciao a tutti. Ciao Yako, in realtà lui non c'è ma ci saluta, è da un'altra parte, in un mondo migliore. E poi ovviamente c'è anche quel passante, aspetta, cos'è che si chiama? Ninja qualcosa. Ah, e poi ovviamente c'è anche Charlie Boom! Boom! Boom, siamo carichi, andiamo in partita, spacchiamo i culi a tutti. Boom! Eccoci in partita ragazzi, siamo nella mappa spaziale, noi siamo il gruppo del sole. Quindi elimineremo le vostre giornate. Boom! Il nostro... Basta, non dico più stronzate, partiamo di cattiveria. Charlie Boom, subito al centro. Subito al centro, io ho già preso il ferro. Aspetta, aspetta, passamelo che devo attivare l'altro cosa. Bam! Eh no, io vado al centro, scusa. Non so se mi basteranno 40 blocchi, quindi magari qualcuno... Qualcuno mi può dare backup. Marci! Marci, subito, Marci! Figo! Sì. Marci? Fatto! Grande. Aspetta, che non riesco a mettere i blocchi. Ok, non ne ho più. Vai. Qua ce n'è un sacco. Spazio, spazio, spazio. Sì. Passa. Cosa devo fare? Vado. Upgredo? No, questo l'ho già upgradeato io. Io vado da che si entra qua. Non so dove si entra, merda. Torno con tre diamanti. Tanto ne abbiamo un sacco. Cinque diamanti presi. Vado, torno. Perfetto, tornate. L'ovetto come sta? Male, male, molto male. L'ovetto sta prendendo il sole. Che brutta! Bruttissima. Ok, vado ad attivare il diamante. Dov'è il diamante? Ah, è sull'isoletto. Per ora facciamo questa cosa un po' così alla cavolo. Mi servono i blocchi. No, tec. Vuoi che lo faccio io, Ren? Prima che rischia. Oh, sono già qua tutti. Eh, raga. Ok. Mi servono dei blocchi per andare di là. Cosa è quello che abbiamo? Aspetta, ne metto un po' qua. Rischiamo. Abbiamo bisogno di diamanti. Boom, diamante attivato. Diamante attivato. Perfetto. Arrivano, arrivano, arrivano. Arriva uno, arriva un verde. Ma smettono di rusharci. Che due coglioni. Allora, tornate indietro. Io faccio un po' di chaibo. Faccio un po' di torte. Eh, io non ho ancora fatto nulla, purtroppo. Vieni qua, ho fatto un po' di torte. L'oro l'avete già potenziato, vero? Sì, costa dieci diamanti. Sì, è un piccolo che c'era, però... Bisognerebbe fare qualche capatina al centro. No, bisogna fare... C'è qualcuno verde, c'è un verde. No, regà! No, regà! No, regà! No, 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 no. Mi hanno preso il peso. E qua, è qua. No, 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 no. Ok, è nato giù, nato giù. Che spavento. Preso, buttato giù. Minchia, hanno rotto già le palle tantissime. Allargo. Bisogna allargare la piattaforma, se no non vediamo niente. Ma perché stavo cliccando Charlie al posto del villager? Dicevo, ma perché non mi dà le cose, scusa? Hanno rotto i rossi. Ok. Ma intanto io mi armo un attimino. Io ho tre diamanti qua, perché? Eh, perché ero buttato io per terra. L'avevo chiesto se li prendevano. Ce l'hai loro. Hanno già eliminato i rossi intanto. Ciao, rossi, siete stati bravissimi. Oh, sento un rumore. Ciao a tutti, rossi. Ciao a tutti. Sono stato io che ho upgradeato, mi sa. Ecco, bravo. E hanno lasciato anche i blu. Minchia. Stanno lasciando chiunque. La cessa la mettiamo qui? Ma sempre i verdi. I verdi stanno giocando proprio male. Che palle, oh. Marci, sta arrivando un verde al centro, occhio. O d'altro un altro colpo di blocchi qua. Qualcuno se mi dà una mano al centro. No, no, no. Questo ha... No, no. Citta, citta. Citta. A parte che erano due. No, no. Mi prendeva da lontanissimo quel piccone. Eh, che pazienza, oh. Che pazienza. Io ho già un attimo qua. Va bene. Arriva il giallo. Oh, ah, il giallo è Marci. Il giallo è Marci. Il giallo è Marci. Il giallo è Marci. Cioè, come è sentito, lo siamo sempre e sempre. Tec, sempre. Tec è proprio una tua caratteristica, quella di... Quella di dire i colori. E vabbè, avviso sempre. Forse però cambiare il ponte qui non sarebbe male. Eh. Sì, ma laggano come... Arriva anche l'altro, quello che non ha niente. Preso. Non l'hai buttato giù, però. Sì, ma vedi. Perché citta? Perché citta questo? Abbiamo appena avuto la dimostrazione. L'ho preso, stava cadendo nel vuoto e tornato su. Vabbè. Ok. Questa è una cosa, non spacco nessuna uova. Voglio solo vedere se questo qui citta veramente, perché mi ha preso quel piccone da molto quanto distante. Lo dico io. Ammazzo questo qui. Ammazzo questo che è full iron. Proprio come se la fai. Oh, c'è un altro verde. Marci, dietro. No, no, Marci, vieni. Marci. Arrivo. Eh, c'ha l'arco, mi sta bospamando. No, 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 Marci, no. Marci, no. Vabbè. No, vabbè. 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 Ho visto cose che voi umani non potete immaginare. E scappo. Ragazzi. Asciuttato Marci così a caso. Così. Pah, gli ha tirato uno schiaffino e morto. Vado al centro. Uno schiaffino. Quindi, uno schiaffo gli ha tirato. Ma c'è verde lì, però. Allora, ragazzi, posso raccontarvi un piccolo aneddoto? Mia madre è da mezz'ora che mi chiama dall'altra stanza. Io non potevo rispondere perché stavo registrando. Adesso entra in camera mia, mi guarda e fa. Non mi ricordo cosa dovevo dirti. Ah, mamma di Charlie. La salutiamo. Guarda, ti salutano, mamma. Ciao, mamma di Charlie. Le sue incursioni ormai sono storia. Io campero qui e blocco un attimo i verdi. Io me la sto camperando un attimo. No, qualcuno ci ha preso tutti i diamanti che mi ero messo da parte. Eh, sì, ho potenziato il generatore. No, scusa. Ah, ok. No, sì, me li ero messi da parte proprio. Lui è preso per un ladro. Arriva, arriva, Aram. Arriva. Preso. Sì, non è caduto. Vabbè, come? Anti-knockback bomber. È bomberissimo. Eh, non muore neanche. Eh, vabbè, tranquillo. Sì, però ha rotto le palle, sto qui. Si prende le pozioni e corre. E rascia. Ma c'è il culo, va. Ma io mi annoio. Ma io mi annoio. Ma io mi annoio. Non è molto da Legolas Blaze questo. No, raga, sta facendo il ponte doppio. Questa cosa è un casino. Perché? Perché si è rotto le palle e che lo butto giù. Raga, chi è che mi dà il cammino? Vi giuro, ho l'armatura in pelle ancora. Sì, sì, è arrivato io. È un casino, questi si stanno armando, c'hanno due full iron con arco e tutto. No, cosa sta facendo? Sta facendo un ponte enorme. Ma cosa serve? Ma ci metteranno due anni a far quella cosa lì. Mi è tornato, stai lì dietro. Allora, io intanto sono nell'isola rossa a tentare di maxare. Mi mancano frecce e poi forse posso farmi anche una mela o pivoli. Non me la mangio. Guarda lì, blu, come si maxano. Come ho fatto? E mi tirano anche le frecce blu, wow. Eh, adesso si comanda qua con l'arco. Preso due volte. Attento! No, arrivo, arrivo, li sto visto. Raga, no, ha fatto una cosa che non si può fare. Ha fatto una cosa che non si può fare. Beh, abbiamo già capito che cittano questi. No, ma l'ha beccato. È morto, bravo. Sapete che se si rusha là, li chiudiamo due dentro lo shatto? Adesso con tutto quello che c'è, prendiamo anche le mele o pivoli e basta. Io ce li ho, ce li ho, la mele o pivoli. Volete andare? Vediamo tutti? A parte uno. Allora, mi avvio io che ho lasciato un attimo l'arco. Dai. C'è uno che sta facendo un ponte laterale, Occio. Vai, 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 vai. Ci detelo. Vediamo se riesco a sparare la frecce, no? Mi ha ammazzato. Ok, io ne ho uccisi due, ne ho uccisi due, ne ho uccisi due. Correte. È ammazzato subito. Arrivo in verde. Charlie, Charlie, tienilo fermo, ti prego, ti prego, ti prego, Charlie. È andato giù in verde. Non c'è più nessuno, raga. Preso, 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 preso. Dov'è? Vai, vai, vai. Grande, due ne mancano. Aspetta, forse so domandando. Oh, attenti, ancora ci lasciano. Lo so, lo so dov'è, vado a prenderlo io, tranquilli. Sta facendo un ponte larghissimo. Vado io, vado io, vado io, vado io. Esterno, l'hai visto? Sì. Charlie. Preso. Sono tornato al centro io. Ci sono. Come fa a schivarle tutte? Anche le frecce. Preso. Ce l'ho, ce l'ho. Dai che ce la fai? Ok, fatto, fatto, tranquillo. Ok. E l'altro, non so dove è finito, ma è morto. Adesso andiamo subito a vedere i blu. Blu. Iniziamo. Ma tu sei transgrig, 100%. Puttato giù un blu. Ovviamente non è morto, perché avrà un sacco di armatura. Preso ancora. Va che scappa. Sta scappando. Sta scappando perché lo stavo uccidendo. È scappato nello shatto il codardo. Maledetto. Chiudiamo l'uomo? Chiudiamo lì dentro. Ah no, ma tanto l'uovo. Eh, non hanno l'uovo. Preso anche l'altro. Eh, però non ho più frecce, anch'io. Cosa sto facendo? Aspetta. Dov'è che me le hanno date tutte loro? No, mi fate fare una cosa epica, raga. Cosa? Forse. Non forse. Please. Voglio andare. Prende un sacco di blocchi. Che vado sulla terra, circunnavigo la terra e gli attacco da dietro. Domani siamo ancora qua. No, vabbè, guarda che si fa. Magellano. Circunnavigo la terra e mi ha preso. Voglio circunnavigare la terra in un Air Force. Non mi ha steso. Non mi ha steso. Lo fai con i blocchi di Ossidana, però. Sì, è beh, ovvio. Mi ha preso per un poveraccio, figa. Milanese privé. Io la me la ho più, raga. Allora, raga, figa, tenete il ponte, tac, che vado a fare sta roba, tamarrissima. Ma ti segui, Alan? Sì, beh, l'importante è che qualcuno controlli il ponte. Ma non ti vedranno mai nella vita, eh. Sì, ma come fanno ad aspettarsi una cosa del genere, dai? Cioè, è una tattica proprio campata per aria. Ma ti sento la tua vita. Navigherà mica la terra. Sì, lo sto facendo. Io se fossi in te andrei dritto adesso. Marco Polo mi fa una sega, cioè. Ah, ok. Marco Polo mi fa una sega, mi ha steso. Oggi stendo chiunque. Io l'ho già per terra, Charlie. Siete più stesi voi di Newton quando ho scoperto la gravità. Ma vuoi veramente cercare di navigarlo a fare il giro? No, beh, si sali. Cioè, mi faccio un pillar. Se sei veramente o pile, vi farli tutti i pianeti. Eh, vabbè. Ma sono da solo al ponte. Marci, guarda, si scende qui nell'angolino estremo. Ah, no, eccolo. Dove sei? Sì, qua. Guarda, lì c'è un altro angolo estremo. Lo vedi? Per non saperne leggere né scrivermi, vorrei... Ecco i blocchi. Lì non ci vedranno mai, eh? Attenti che... No, è... Dimmi se mi vedono. Ma no, non ci... Come fanno a vederci, raga? Oh, mi sentono. Beh, questo pure è. Sentono il rumore della terra. Vabbè, almeno posterò a dirci di averci provato, dai. Ragazzi, che hype. No, stanno fissando me. Tu, Eren, tu, Young Tech che stai facendo. È arrivato anch'io. È arrivato qua. Aspetta, aspetta, aspetta. Tanto. Prendo la mela qui. La mangio anch'io. Aspetta che... Io non li ammazzo, te li faccio ammazzare tutti a te, però. Sono là... Sono lo stesso... Noi li stiamo distruendo, ma non se ne sono ancora resi conto. Forse ne ha visto, eh, però. Forse è una. No, non ci ha visto per niente. No, ma è nella vita. Lo freccio, Marci. No, Eren, non arcarli. Aspetta. Ma guarda, mi ci vedono. Li archiamo noi, li archiamo noi da qua. Lo arco, quello. Che no, ma... Ma secondo me non ci hanno visti, eh. Io vado a vedere se vi hanno visto. Sì, adesso forse sì. Sì, adesso forse sì. Ok, Marci, vai! Vai, 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 vai. Me l'ha adorata anche. Me l'ha adorata. No, regà, son buggato! Son buggatissimo! No, regà! Ma da Marci è morto. Non ci posso credere, regà. Un è andato! Sì! Uno si è buttato, che ausi. No, l'hai buttato il cielo! Mamma mia, ci ha navigato la terra. Guardate lì! Guarda! Guarda! Benissimo. Bello. Ah, ma li avevo uccisi tutti e due io? Sì, l'ho detto io che... Eh, è stato etico. Ah, perché uno l'ho shottato ed è morto, non so come, e l'altro l'ho ucciso con la spazio. Ok, va bene, è stato bello. Il top della vita, diciamo. È stato bello. Diciamocelo. E quindi, ragazzi, questa era la Egg Wars di oggi, o meglio, di questa settimana. Abbiamo vinto con una tattica bellissima, è stata una bella partita. Per cui ringrazio i miei collaboratori, vale a dire Charlie Boom! Boom! Mara, Marci! Ciao a tutti! Che ha salutato, quindi ha confermato che è donna sotto sotto e Tech Forcone, ovviamente. Quindi, ragazzi, noi vi salutiamo. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, continuate a sostenere questa serie che è difficile comunque da registrare. È impegnativa. È lunga, lunga. È lunga, sono molto lunghe le partite. E per il resto ci vediamo presto con altre Egg Wars. Quindi, ciao a tutti!